Nei 1.127 positivi in città, la fascia più colpita dal virus è quella tra gli 11 e i 20 anni. Secondo la suddivisione appunto per fasce d'età, gli anziani sono i meno colpiti, ovvero 83, 38 e 20 sono i numeri delle fasce d'età che vanno da 71 a 80 anni, da 81 a 90 anni e da 91 a 100. Ma nel dettaglio sono 125 i positivi da 0 a 10 anni, 185 come si diceva i positivi da 11 a 20 anni, sono 158 invece da 41 a 50 anni e la fascia che si avvicina di più ai più colpiti è quella dai 51 e 60 perché sono 182. 114 invece i pazienti dai 21 ai 30 anni, 115 dai 31 ai 40 e così andando a salire per fascia d'età sono 107 i positivi da 61 a 70 anni. Ovviamente la fascia di età si elabora anche rispetto al numero di pazienti vaccinati a Caltanissetta. Ovviamente la fascia di popolazione vaccinata a Caltanissetta è abbondantemente sopra la soglia dei parametri. Nelle ultime 24 ore intanto sono 107 i positivi in isolamento domiciliare, 41 a Gela, 30 a Caltanissetta. E tuttavia sono dati che si riferiscono a domenica, giorno in cui si somministrano pochi tamponi. Si conta anche un paziente deceduto e un cittadino gelese. Rispetto ai numeri anche che riguardano i ricoveri, ovviamente cartina di tornasole, rimangono sempre 41 stabili i ricoveri in malattie infettive, nessun ricoverato in terapia intensiva, sono 10 i ricoverati nisseni appunto nel reparto di malattie infettive e 18 i ricoverati gelesi.